Carta la carta, carta la carta, millocciadini facci che pare Dai forza Alessandra che ci hanno regalato sto attrezzo Vediamo un po' che c'è il regalo che ci hanno fatto Vi mettiamo il link Amazon in descrizione Apri, 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 un po' vedi Compatibile per Windows, quindi potremmo giocare C'è il cavo che è questo attrezzo Vedi che sta in collegamento USB Devemmo capire come mettono Va bene adesso lo colleghiamo ragazzi Facciamo la prova per vedere se Alessandra gioca bene a Fortnite Con sto aggeggetto Com'è? Plasticoso? E' figo papà, lo sai che se possono pure cambiare i tassi Ma ho capito che ci hanno messo sto cavo Ma non basta quello che già c'è Ah no, sto cavo esce fuori con la micro USB Ah questo per metterlo sul cellulare Vedi che figo? C'è pure per giocare i videogiochi del cellulare Con la micro USB Che figata Allora rega funziona Guardate la prolunga è praticamente Abbiamo collegato la micro USB qua dentro E praticamente questo è diventato un filo Che l'abbiamo attaccato poi dentro Ale per la prima volta sta giocando con Il controller come si chiama Allora vi faccio vedere un attimino la scatola Vai Alessandra vai subito che gioco Vediamo se ti la fai va Eh natura Dovrei prendere in mano Poi usa anche la tastiera intanto contemporaneamente Alessandra Poi sa tutte e due le cose Oh BX adesso mi funziona bene Adesso ho capito Ok stai per giocare insieme al nostro amico Si chiama Jennie del 2005 No amico, amica Amica? Una ragazza? Si Non mi dici niente Ah zitti zitti Abbiamo Per la prima volta abbiamo una ragazza che gioca con noi No la prima volta Io ci ho giocato Vabbè per la prima volta L'unica L'unica diciamo Che di solito su tutti i maschi giocatori di Fortnite Allora come va? Come ti trovi? Ho capito Allora così Si cammina E premendo Si corre Poi come si prende con X Ah si prende mano subito eh Ragazzi guardate Alessandra è la sua prima partita Fa subito la prova Vi metto un link Amazon Mi sembra che costa poco eh Più di 10 euro ma meno di 20 euro Compreso spese di spedizione Salita ci ha detto Scegliete quello che vi pare Ve lo regaliamo Allora ha detto vabbè Mandaci un controllo Raga noi non ci proviamo E noi ve lo facciamo vedere Senza mentire Vediamo come funziona Bella inquadratura da vicino C'è pure la lucetta Non so come saltare Jenny come si salta? Eh io ho la cosa dell'Xbox Ah ok La barra spaziatrice si fa Ah per buttarti no? Raga vediamo Gamepad si chiama Se poi c'erano pure le istruzioni no Andiamo dietro Ho già capito l'impicchia Android pure Che figo Lo puoi pure collegare al telefono tuo eh Se c'hai qualche gioco Ci puoi giocare con questo Se c'hai qualche videogioco nel telefono Sarà un po' un nabbo eh Perché non ci ho mai giocato Ok Non siamo in diretta raga Questo 77 Aiuto Mi rimango qui sopra per Prova a saltare No non posso Come? Ma ci sono nemici Mi dobbiamo ammazzare Ah ok No Aia Iiii Botta Ha picconate? Ha imparato già delle picconate? Bravale Come sono le prime sensazioni del primo minuto? Mamma mia Difficile? Intense Intense Allora raga Non stiamo a sentire l'audio Perché Ale c'ha le cuffie Quindi non puoi sentire gli spari Le cose Se non vi ho fatto con il cellulare Salta è coperto? Hai capito come si salta? Si Come si salta? Con A Con A Non ti vedo salta Ora mi servo aiuto La sua prima partita raga Mi sa che ritorneremo alla tastiera Però D'altronda La prima partita È chiaro che è difficile Raga l'hanno quasi ammazzato Ma papà È troppo difficile Ok Va bene Va bene La regaleremo a qualcuno Nostro Ok No io la provo La puoi tenere ancora? E poi la potremo usare per il cellulare Te la metto nel cassetto Della roba dei videogiochi Così ci giochi quando devi fare Ok Ciao ragazzi Se vuoi mettere i pollici su E metto il link di Amazon In descrizione Ciao mi dici Ciao Ciao